ciao a tutti da vittorio mi perdonerete per questo video un po differente dal solito ma è assolutamente necessario assolutamente necessario nel calcio si vince si perde bisogna accettare la sconfitta bisogna accettare la vittoria bisogna essere signori nella vittoria bisogna essere signori nella sconfitta ecco oggi mi viene da dire che strotman quello ve lo ricorderete tutti no quello che nel derby della lazio simulò un calcio di rigore quello che quando segnò il derby gettò l'acqua della borraccia a danilo cataldi per farlo esperlerlo ecco strotman che non è sicuramente il signore non è proprio un re del fair play ha più fair play di tutta l'atalanta di tutta l'atalanta giocatori allenatore staff tecnico tutti non escludono nessuno nessuno la partita contro la lazio è stata una prova da questo punto di vista imbarazzante gasperini che in conferenza stampa dice che la lazio rosica perché noi arriviamo spesso sopra a me mi sembra che la lazio ha rosicato raimondi voi forse non l'avete visto raimondi ex giocatore dell'atalanta ha giocato tanti anni all'atalanta adesso è uno dei collaboratori di gasperini che è andato a dire due cose di zaghi perché la lazio stava esultando come giustamente succede tu vinci esulti nel rispetto ovviamente esulti non so se avete visto le immagini raimondi va là e dice zaghi ci vediamo fuori ci vediamo fuori questa è l'atalanta questa è l'atalanta questo è fair play questo è imbarazzante giochi calcio benissimo io non discuto gasperini è un grande allenatore è una persona pessima pessima ma non è il solo raimondi un suo assistente è un'altra persona pessima una che rosica che quando vince si può esultare quando vincono gli altri non possono esultare devono stare zitti che dire di ilicic ilicic ha dato un calcio a leva dopo i primi dieci minuti su un cinocchio e poi si buttava in continuazione tutti i giocatori dall'atalanta sembrava una piscina la partita perché ogni minimo contatto pum per terra zapata pesa 200 chili eppure sembra che quando lo toccava cerbi gli sparassero dalla tribuna questo dall'altra parte lazari no lazari va giù in area di rigore e dice no arbitro non mi ha toccato questo è fair play e la partita era ancora aperta era apertissima un rigore rubato poteva aiutarti ecco così si fa i signori non come gasperini che dice spesso gli arriviamo sopra però la coppa italia sta ancora rosica ed è brutto ed è brutto perché ripeto nel calcio si vince e si perde bisogna essere dei signori quando si vince bisogna essere dei signori quando si perde in zaghi quando mercoledì la Lazio ha perso ha detto abbiamo giocato bene abbiamo sbagliato l'atalanta ha vinto oggi l'atalanta non ha fatto neanche un tiro in porta gasperini ha detto che l'atalanta ha giocato bene che nel secondo tempo l'atalanta ha giocato meglio dell'atalanta evidentemente de zon mi ha fatto vedere un'altra partita perché io ho visto la lazio nel secondo tempo ha fatto due gol e l'atalanta solo uno su rimpallo ha avuto altre tre clamorose occasioni la lazio atalanta neanche una e gasperini rosica grande allenatore non si discute persona ignobile e non è una novità e non è una sorpresa se in una grande piazza come milano ha fallito perché a milano devi anche essere di un certo livello gasperini non lo è e stesso discorso raimondi che rosica a fine partita è una partita non è neanche a finale niente e va a dire in zaghi ci vediamo fuori per minacciarlo per dire ti picchio fuori vieni fuori che te picchio ecco questo è raimondi sicuramente non verrà squalificato non succederà niente io ho visto perché immagini le telecamere di zona hanno fatto vedere benissimo benissimo va prima da reina poi va da zaghi in zaghi lontana dice smettila non fa queste cose lui ritorna e viene di nuovo allontanato questo questo è lo stile atalanta questa è una vergogna è imbarazzante ripeto si può vincere si può perdere si vince con stile si perde un stile ci vuole classe nel calcio l'atalanta è una squadra che gioca benissimo ma classe stile proprio zero io un po mi vergogno fossi il tifoso dell'atalanta di essere rappresentato da queste persone poi ovviamente è come è come il tweet che ho tweetato ieri del tifoso del milan che ha scritto i rigori del milan ci sono tutti quelli della lazio l'anno scorso sono tutti furti no perché se il rigore mio c'è se il rigore dell'altra squadra sono furti il milan quest'anno 14 rigori però ci sono tutti la lazio l'anno scorso in un campionato avuto il 18 sono tutti rubati no perché purtroppo non si riesce a vincere con stile non si ha la classe ci sono certi tifosi che non hanno classe il mio no è netto di rigore il tuo non c'è mai anche se è clamoroso questo è la mancanza di stile preferisco la lazio con stile che magari non vince lo scudetto però a classe stile che essere dell'atalanta con gasperini e raimondi ilicic e maxivocic no e tutti quei giocatori che entrano e si buttano come se fosse una piscina ci vuole classe nella vita ci vuole stile adalanta zero ciao